Mi perdonerete il berretto, il cappello però, ho un cappello improponibile e non ho avuto tempo di pettinarlo prima dell'inizio della conferenza stampa, quindi vi chiedo scusa delle due, teniamo il cappellino. Allora, ciao ragazzi, quella di oggi è stata una conferenza stampa più tranquilla, più serena, con toni più distesi e rilassati, nonostante non sia comunque arrivata la vittoria a Bologna l'altra sera. Sembra quasi che, non so, un Allegri un po' più sereno o un Allegri che ha voluto abbassare i toni perché forse si è reso conto che la conferenza stampa del pre-Bologna non aveva portato serenità interna al gruppo e quindi insieme al reparto comunicazione di Juventus ha deciso di abbassare un attimo i toni. Tra l'altro vi dico, non ho sentito tutta la conferenza, ma non perché sia arrivato tardi, semplicemente perché Dazon l'ha fatta iniziare mentre Allegri già stava parlando e quindi non so se mi sono perso alcune domande e risposte, vi chiedo scusa nel caso, non dipende da me. E quindi partiamo dalla prima cosa che ho sentito e cioè Allegri che dice siamo a quota 60, è tutto aprile in realtà che dovevamo arrivarci, ma non ci si arrivava mai. La politica dei piccoli passi però ci ha portato fino a 60 punti. Detto questo, l'atteggiamento della squadra è stato diverso rispetto ai 25 minuti di Milano e l'abbiamo mantenuto. Abbiamo creato molto, ma abbiamo sbagliato molto in fase conclusiva e qui dobbiamo migliorare. Domani sarà una partita diversa, la seconda in tre giorni, il Lecce è un obiettivo importante, cioè la permanenza in Serie A, dovremo essere bravi, concentrati e soprattutto rispettosi. Quindi qua una sorta di sagra del default, di quello che è solitamente l'analisi di Allegri nei confronti di una squadra che lotta per rimanere in Serie A, quindi hanno un obiettivo importante. Rimanere lì, noi dovremmo essere rispettosi, dobbiamo essere bravi, dobbiamo essere concentrati, dobbiamo migliorare in un determinato fondamentale. E' ovvio che parlare di squadra che deve migliorare il 2 di maggio, con 30 giorni da quel termine del campionato, penso che il momento dei miglioramenti sia terminato e che ormai si debba semplicemente prendere quello che c'è e portarselo e trascinarselo alla fine dell'annata. Allegri dice, il bilancio va fatto a fine anno, diciamo che abbiamo ancora due obiettivi davanti che sono i primi quattro posti e l'Europa League. Poi vedremo, perché gli chiedevano un bilancio sulle prime 100 partite dal suo ritorno alla Juventus, infatti domani con il Lecce sarà paranchina 101 per l'Allegribis. Durante l'annata ci sono state cose positive e negative, lavoriamo per tornare competitivi e lottare per il campionato fino alla fine. Quest'anno non ci siamo riusciti ed è stata un'annata con vicissitudini dentro e fuori dal campo, dobbiamo essere bravi a finire al meglio con due obiettivi importanti. Sì, diciamo forse più cose negative che cose positive, perché se devo mettere sulla bilancia questa stagione della Juventus faccio un po' fatica a trovare delle cose positive, se non in un certo momento della stagione una sorta di ritrovata serenità, quella l'avevo avvertita, e la cosa sicuramente più positiva della stagione è i tanti minuti che hanno collezionato Fagioli, Miretti in primis e poi qualcosina, ma sicuramente meno sulle Eiling e sullo sfondo, pure Barrenecea e Barbieri che hanno sicuramente giocato molti meno minuti. Queste sono le cose migliori della stagione, poi per il resto di robe positive faccio un pochino fatica, detto sinceramente, e non è un discorso di un bilancio che verrà fatto a fine dell'anno, perché da qui alla fine l'avevo può arrivare seconda e vincere l'Europa League, che le cose positive rimarranno quelle più eventualmente appunto l'Europa League in bacchieca, ma faccio un po' fatica in questo momento a valutare positiva la stagione della Juventus, penso che sia così per tanti, magari non per tutti ma per tanti. Gli obiettivi personali dei calciatori sono importanti, ma devono essere messi a disposizione della squadra. Uno può fare bene o male, ma poi la squadra deve raggiungere degli obiettivi, se no facciamo tutti male e siamo tutti responsabili. Vlaovic sta bene, è entrato a Bologna, devo decidere se farlo o partire o meno, ma sono contento di quello che ha fatto fino ad ora. Anche questa mi sembra una risposta abbastanza finta, tra virgolette, da parte di Allegri, che non penso che possa essere soddisfatto della stagione di Dujan Vlaovic, al netto degli infortuni, al netto della pubalgia, che si sta portando dietro. Secondo me su Vlaovic, Allegri in realtà nell'ultimo periodo sta facendo bene, nel senso che Vlaovic non era in condizioni di giocare, aveva bisogno di staccare un attimo e adesso l'abbiamo visto abbastanza in panchina, l'abbiamo visto in panchina con il Napoli, l'abbiamo visto non convocato con l'Inter, l'abbiamo visto in panchina con il Bologna, quindi praticamente ha saltato a tre gare. Credo che sia giunto il momento di invece farlo tornare in campo, perché se doveva staccare, bene, l'ha fatto. Ha avuto quasi 270 minuti di riposo, quindi adesso può benissimo tornare in campo se necessario, perché ora c'è bisogno che Vlaovic abbia ricaricato le batterie dal punto di vista mentale, poi invece sotto il punto di vista di buttare dentro la palla dipende anche molto se il pallone poi gli arriverà oppure no. Il calcio è bello perché varia da partita a giorno, ecco qua non sono proprio d'accordissimo con quello che dice Allegri, non per tutto almeno, perché in realtà su una cosa sono molto d'accordo. Mercoledì dopo Milano si parlava di stanchezza e robe che si dicono quando la squadra perde, poi fa una buona partita a Bologna e si dice che si è ritrovata a condizione. Io non ho visto una condizione ritrovata a Bologna, ho visto una squadra che poteva vincerla, una squadra che poteva perderla, una squadra che ha creato di più perché ha subito di più, semplicemente. Questa è la panoramica, se devo riassumere la partita, dico una Juve che probabilmente meritava di vincerla, forse il pareggio è il risultato più giusto per quello che si è visto perché comunque ha pur rischiato di perderla, quindi te lo porti a casa. Ma è una squadra che ha creato tanto perché si è scoperta tanto, quindi non è abituata una squadra a creare tanto, è una squadra che solitamente si preoccupa di più del non prenderlo ed è andata così. Però non mi sembra che la Juve abbia fatto una buona partita, una buona partita la fai quando comunque hai tante occasioni e riesci a non subirne così tante da parte del Bologna. È stata una partita sicuramente migliore rispetto alle ultime che abbiamo giocato, ma perché stavano toccando veramente il fondo, ragazzi. E soprattutto no, sulla condizione, lo dicevo anche nelle pagelle, secondo me non si è vista una condizione ritrovata, anzi mi è sembrato spesso e volentieri che il Bologna avesse più condizioni e riuscisse ad arrivare prima sui palloni, sulle seconde palle, quindi da questo punto di vista non sono d'accordo. Sono invece molto d'accordo quando dice la squadra in buona condizione no, su questo no, ma dice in questo momento il fattore mentale fa la differenza. Sì, su questo sono estremamente convinto anch'io, perché allora in teoria le squadre arrivati a questo punto devono arrivare bene o male dallo stesso punto di vista, no? Quindi atleticamente e tatticamente in forma e tatticamente a posto. A me sembra che la Juventus non arrivi con nessuna delle due e solitamente una squadra che però sta pure bene o sta meglio di un'altra a livello mentale può trovare quelle forze per. Oggi non mi sembra nemmeno che la Juve stia bene a livello mentale. Quindi sulle tre componenti, fisica, mentale e tattica, faccio un po' fatica a dirvi dove stia meglio la Juve, perché secondo me non sta bene da nessuna delle tre. Però la mente in questo momento fa la differenza, sono d'accordo. Adesso le squadre che arriveranno a vincere, che ne so, il campionato in Premier, che è ancora aperto, apertissimo, sta diventando bellissimo perché City-Arsenal è un sorpasso dietro l'altro e ora l'Arsenal magari si sta ammalangiando le mani. La Champions, la stessa Europa League, la stessa finale di Coppa Italia, non basta arrivarci solo pronti fisicamente o pronti tatticamente, serve anche avere la fame. E dal punto di vista mentale, chi avrà più voglia di, allora se le porterà a casa. Il problema è che noi da tutti e tre i punti di vista, secondo me, facciamo molta, molta fatica. E le Juve di Allegri, dei tempi, magari tatticamente non erano chissà che cosa, non erano squadre organizzate, perché lo sappiamo, Allegri è sempre ragionato per principi piuttosto che per schemi, però mentalmente erano più avanti di tutti, avevano più fame di tutti. C'erano i giocatori che avevano veramente fame. Potevano cambiare, perché abbiamo visto tantissime Juve di Allegri, qualcuna più forte, qualcuna meno forte, del primo ciclo parlo. Ma quella era una caratteristica che rimaneva in tutte le Juve. Dal punto di vista mentale, era difficile trovare una Juventus che poteva mollare. E invece adesso vediamo delle Juventus che fanno un po' fatica, dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale e dal punto di vista tattico. E tutte queste cose messe insieme ti descrivano la stagione che stiamo vivendo. Dice, abbiamo qualche punto di vantaggio, ma abbiamo anche due scontri diretti. Ovviamente parla della qualificazione in Champions. Inizia un nuovo minicampionato dove siamo dietro la lastra di un punto e abbiamo l'obiettivo di raggiungerla. Vedremo, io in questo momento sinceramente faccio un po' fatica a dire, poi è giusto che l'allenatore invece dica che l'obiettivo è il secondo posto, che bisogna raggiungere la lastra, è giustissimo quello che dice Allegri. Io sono molto più pessimista e faccio un po' fatica a dirvi che il mio obiettivo ora è il secondo posto e quindi raggiungerla Lazio. Credo proprio che la Juve, dato che appunto due scontri diretti sono Atalanta, domenica, mezzogiorno e Milan, che giochiamo il 28 di maggio, probabilmente la sera anche se non è ancora uscita l'orario definitivo, sicuramente deve stare attenta a rimanere dentro i quattro posti la Juve, piuttosto che focalizzarsi sul rincorrere a Lazio al secondo posto. Poi magari è una sensazione dettata dal momento, però vedo una Juve molto 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 scarica. Forse non sarà ai livelli di mesi fa, ma Adrien anche a Bologna ha fatto una partita importante come tutti. Domani è possibile che riposi, quindi magari un po' di turnover, io anche a Bologna l'ho visto abbastanza scarico rispetto a qualche mese fa. Di Maria sta bene, gli è passato il dolore a Caviglia, potrà essere della partita, è un giocattore straordinario da cui ci aspettiamo tanto. Ora non tutti devono essere al servizio della squadra. Di Maria è uno che può fare la differenza dentro la partita, quindi in teoria Di Maria è disponibile, quindi me lo aspetto tra i convocati, spero che non venga fuori un altro dolorino così all'improvviso, speriamo. Migliorare Fagioli, questo migliorare deve migliorare su tante cose, come tutti i calciatori finché non smettono. Fagioli è cresciuto tanto, ha fatto partite importanti, poi è arrivato un momento di flessione, è tornato un giocattore forte, per me l'ho sempre stato, devo dirvi la verità, dato che domani si gioca contro il Leccio, l'ha decisa proprio l'abbiamo, io non ho fatto niente. Ha decisa Fagioli con quel bellissimo tiro a giro. L'altro giorno l'ho tolto, ma non meritava di essere tolto. C'era bisogno di giocatori con caratteristiche diverse in quel momento, ma ha fatto una buona partita. Quindi mi immagino che domani Fagioli partirà titolare. Penso che con anche la panchina eventuale di Rabiot, Fagioli possa essere titolare, non so se insieme a Miretti, ma immagino di sì, o magari Paredes, non credo Pogba. Fagioli e Miretti insieme non me lo aspetto, devo dirvi la verità. Pogba nemmeno, quindi viene naturale pensare a Paredes, Locatelli e Fagioli, o Paredes, Locatelli e Miretti, una roba del genere, vediamo. L'ho detto prima, a Paredes si spiega come a febbraio e marzo avevamo fatto molte vittorie, fino alla settimana fa eravamo dentro tutte e tre le competizioni. No mister, la settimana fa non eravamo dentro tutte e tre le competizioni. Eravamo dentro Coppa Italia, Europa League, che non era la condizione per la quale eravamo partiti, la competizione per la quale eravamo partiti, e dentro il campionato non c'eravamo. E infatti poi dice, una squadra quando arriva ad aprire dentro tutte le competizioni, a lottare per gli obiettivi, significa che sta andando bene. È ovvio che per la Juve andare meglio significa vincere, ma come dicevo l'altro giorno, nello sport non vince sempre il solito, altrimenti verrebbe noia. Fa strano e forse sorridere ripensare alle parole della conferenza stampa di addio di Massimiliano Allegri, dove diceva ci sono allenatori che vincono e altri che non vincono mai, ci sarà un motivo Dio santo Dio. Proprio testuali parole e la citazione. All'epoca chi vince è il più bravo, adesso non è detto che vincano sempre gli stessi. Cioè, è cambiato molto, diciamo, il modo di vedere le cose, il modo di porsi, chi vince è sempre più bravo, e non è detto che vincano sempre i più bravi, vincono un po' tutti perché lo sport è così. Fa sorridere come cosa, diciamo così. Altrimenti è impossibile sempre vincere o sempre perdere, visto che ultimamente abbiamo perso diverse volte, ora abbiamo l'obiettivo di tornare a vincere, visto che in campionato non vinciamo da tanto. Non vinciamo in campionato dal primo di aprile, Juventus e la Sverona 1-0 con di Moise Kemp, perché poi in Sarriano non abbiamo mai più vinto, c'è stata un'altra vittoria, 1-0 Federico Gatti, sempre in casa, ma in Europa lì contro Sporting Lisbona, quindi la Juve sta facendo una fatica boia. Bremer sta bene, aveva bisogno di recuperare, ha giocato tante partite, anche per lui è il primo anno di una partita ogni tre giorni con pressioni, non era semplice, da domani rientra in campo. Credo che riposerà Alexandro, una partita ogni tre giorni, quindi c'è da spingere molto, con energie fresche e nuove. Oddio, Alexandro non mi pare che abbia giocato così tanto in realtà in questo aprile, vado a memoria, poi magari mi sbaglio, però sicuramente ora non ha più il fisico per reggere una partita ogni tre giorni a questi livelli, e infatti qua secondo me entra in gioco il discorso legato al rinnovo di Alexandro. D'accordo. Questo non lo so. Cosa succederà? Sta parlando del rinnovo di Di Maria e di Rabiot. Questo non lo so. Cosa succederà nella prossima stagione? Penseremo a bocce ferme. Non sappiamo se giocheremo la Champions, è un nodo cruciale, cambia tutto se giochi la Champions, supporremmo dal punto di vista della programmazione. Bisogna solo stare calmi, mancano 30 giorni a fine stagione, quindi serve essere concentrati su questo. Quello che verrà fatto l'anno prossimo lo valuteremo, o lo valuterà la società. Possibilino? Forse no. Strano che non abbia dato una risposta che mi aspettavo, cioè non ci penserò io, non è l'allenatore che decide queste cose e lo fa la società. Invece ha dato una risposta differente, devo dire la verità. Mi ha sorpreso perché mi aspettavo la stessa linea d'onda rispetto a tutte le altre volte che era stata fatta la stessa identica domanda sui rinnovi degli stessi identici giocatori e aveva dato quella risposta lì. Invece questa volta dice non lo so, vedremo. Ha voluto far intendere che non sappiamo se giocheremo la Champions oppure no. E quello è un nodo cruciale. Se vogliamo essere un pochino bastardi, tra virgolette, se vogliamo spingere il coltello che sta già tagliando la torta, se vogliamo proprio spingerlo fino in fondo, che la Champions è un nodo cruciale non solo per Di Maria e Rabiot, ma pure per lo stesso allenatore, anche il fatto che concluda dicendo quello che verrà fatto l'anno prossimo lo valuteremo e quindi anche io o lo valuterà la società e quindi senza di me, perché è strano che abbia dato questa risposta. Di solito dice non me ne occupo io, ci pensa la società. Invece qua ha volontariamente dato una risposta differente. Vedremo se sarà soltanto una mia sfumatura, una lettura di una sfumatura all'interno di questa risposta oppure no. Domenica Locatelli ha fatto una partita buona, ottima, anzi, a Bologna. Ci sono partite in cui i ragazzi si trovano in difficoltà, altre in cui si trovano in meno difficoltà. Manuel quando va in campo si mette a disposizione per la squadra e anche se gioca peggio il suo contributo lo trovi in fase difensiva. Infatti io credo che quest'anno Locatelli abbia fatto un'ottima stagione dal punto di vista difensivo inteso come mediano davanti alla difesa e ovvio che dobbiamo valutare la qualità, la costruzione, quindi come regia vera e propria siamo insufficienti ma lì passa dal fatto che non c'è una vera e propria trama predefinita e quindi Locatelli spesso volenti di brilla per l'interpretazione di un ruolo prettamente difensivo quindi secondo me se valutiamo la stagione di Locatelli da mediano è eccellente se la valutiamo da regista decisamente meno ma credo che non sia nemmeno quello che viene richiesto al giocatore da parte dell'allenatore e quindi queste ragazze sono un po' le mie valutazioni ripeto una conferenza stampa oggi molto più blanda molto più tranquilla secondo me volontariamente perché come vi dicevo l'altro giorno già c'era una fiammella aveva iniziato a bruciare qualcosina se poi ci passiamo sopra con la benzina non lo spegniamo mai più quindi l'altro giorno non mi era assolutamente piaciuto l'atteggiamento in conferenza stampa oggi molto più tranquillo pacato rilassato anche se internamente non lo è ha dato da vedere questo e va benissimo perché poi sappiamo che l'opinione pubblica sulla Juventus è un attimo la Juventus fa sempre rumore anche quando non dovrebbe far rumore figuriamoci quando invece lo deve fare e noi ci vediamo domani a meno che non accada niente che non accada qualcosa in questa serie quindi un video di aggiornamento in via eccezionale se no ci vediamo domani per cercare di iniziare a preparare un Juventus Lecce che sulla carta di stimoli pochi però guardando la classifica guardando il calendario e soprattutto guardando il fatto che non vinciamo da oltre un mese in Serie A beh diventa una partita molto importante